La città di Agropoli si prepara a vivere un momento importante nei giorni 29, 30 e 31 maggio prossimi. La reliquia di Sant'Antonio di Padova giungerà in città e sarà in esposizione presso la chiesa Sant'Antonio di Contrada Moio ad Agropoli. Ad entrare nel dettaglio dell'iniziativa il parroco Don Carlo Pisani. In effetti quest'anno la comunità parrocchiale Sant'Antonio nella Contrada Moio celebra il quarantesimo anniversario della posa della prima pietra. In questa circostanza abbiamo chiesto alla Basilica di Sant'Antonio in Padova che le reliquie pellegrine potessero fare una sosta anche nella nostra cittadina. E il 29 arriveranno direttamente da Padova alle ore 17 e 30 le accoglieremo dinanzi al cimitero, nel piazzale davanti al cimitero. In processione insieme con tre padri conventuali francescani che vengono da Padova cericheremo professionalmente nella chiesa parrocchiale dove poi celebreremo la Santa Messa. E le reliquie rimarranno esposte in chiesa alla venerazione dei fedeli tutta la serata con momenti di preghiera animati dalle diverse comunità parrocchiali di Agropoli. E poi a partire da mezzanotte fino al mattino successivo comunque la chiesa rimarrà aperta per tutti coloro che vorranno recarsi per un momento di preghiera personale. Il giorno 30 invece al mattino avremo due celebrazioni della Santa Messa alle ore 7 e alle ore 8 per dare la possibilità a chi lavora di partecipare alla celebrazione eucaristica e di venerare le reliquie. E durante il corso della giornata ci saranno alcuni altri momenti, la visita della reliquia maggiore ad alcuni punti significativi della Contrada Moio. Alla scuola elementare dove ci sarà la benedizione dei bambini, al centro di riabilitazione invece dove pregheremo insieme con i nostri fratelli ammalati. Al pomeriggio invece ci richiederemo prima presso la casa di riposo La Speranza, quindi per visitare gli anziani e poi presso la zona di Trentova invece ci sarà un momento di preghiera con gli allevatori e gli agricoltori della zona. Dopo questo ritorneremo nella chiesa parrocchiale dove alle 19, su eccellenza Monsignor Vescovo Ciro Miniero, presiderà la celebrazione eucaristica. Il giorno successivo, il 31 alle ore 7, ci sarà la messa di addio alle reliquie che saranno in partenza per il santuario di Sant'Antonio a Messina. E in quella occasione poi i padri francescani a nome del rettore della Basilica e del padre della provincia Veneta consegneranno a me come parroco una piccola reliquia del santo che rimarrà quindi nella nostra chiesa di Sant'Antonio. Sono degli appuntamenti belli, importanti non solo per la Contrada Amorio ma credo per tutta la città dell'agropoli e per tutti i devoti di Sant'Antonio che sono ancora tanti. Ricordiamo poi sicuramente che grazie a Cilento Channel sarà possibile seguire la diretta sia dell'evento del 29 pomeriggio che della celebrazione eucaristica del 30 sera delle 19 presieduta dal Vescovo.